Signor Trentin, lei è un importante esportatore di formaggi tipici italiani, ritiene che l'attuale trend positivo possa proseguire? I dati che ci vengono dati oggi nel mercato dell'esportazione dei prodotti DOP e i prodotti italiani sono sicuramente positivi. Questo grazie al nostro Made in Italy che è sempre più apprezzato nei mercati internazionali e soprattutto nei nuovi mercati emergenti di tutti i mercati asiatici. Quindi noi ci auguriamo e comunque crediamo che questo trend positivo prosegua anche nei prossimi mesi e mi auguro anche nei prossimi anni. Grazie.